Io voglio dirlo alle donne presenti in sala, noi lo sappiamo, lo sappiamo che se vi spuntiamo davanti in un vicolo la notte e voi siete sole possiamo farvi paura, però non è facile risultare non minacciosi, perché se io ti spunto davanti in un vicolo la notte e tu sei da sola io ti vedo e faccio tranquilla non ti faccio niente, non funziona, non funziona. Quindi la tattica che uso io, se volete la potete usare, io uso la finta telefonata, io da lontano devo fare la stessa strada, subito faccio pronto, mamma, sì ho chiamato per dirti che ti voglio bene, ti voglio bene, ciao, perché cosa c'è di più innocuo di un uomo che ama sua madre? Niente, mi direte che se alle 4 di mattina sentite uno che chiama la madre solo per dirle ti voglio bene, probabilmente si sta per togliere la vita e dovreste aiutarlo. Grazie